Un sogno da costruire? C'è! Un modello in scala 1 a 4 fedele all'originale? C'è! Costruisci la Yamaha YZR M1 di Valentino Rossi e scopri il mondo della Yamaha e della MotoGP. Vai sul sito e scopri come ricevere direttamente a casa tua tutti i numeri della collezione. Ordina subito e ricevi tre numeri al prezzo di uno. E in corso d'opera questi incredibili regali. Infine, non perdere la fantastica opportunità di arricchire la tua collezione con la Teca per esporre la tua Yamaha YZR M1 di Valentino Rossi. Una grande esclusiva di Agostini. La moto di Valentino Rossi c'è!